rifare l'italia si può e si può se ci sarà più spazio ai giovani nel paese che storicamente tarpa le ali proprio allora i giovani costringendoli sempre più spesso alle fughe all'estero e dove le poltrone sono occupate dai soliti noti o dalla politica prosegue non senza difficoltà il nuovo messaggio per i ragazzi compresi nella fascia di età 15 29 anni opportunità per loro attraverso garanzia giovani il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile a nocere inferiore precisamente presso la biblioteca comunale si è tenuto un incontro moderato da enza sonetti dell'assemblea regionale del partito democratico e voluto fortemente dai vertici sindacali di tutta la regione campania il piano di garanzia giovani è uno strumento innovativo molto utile per le giovani generazioni parliamo di 900 milioni di euro stanziati in italia di cui 130 milioni di euro stanziati nella sola campagna è uno strumento che serve ad accompagnare giovani che o si sono diplomati laureati o sono usciti dal percorso lavorativo scusami giovani fino a 29 e permette loro sostanzialmente un accompagnamento da parte dello stato tramite la collaborazione con i privati e le imprese sia nel percorso formativo quindi tirocini stage sia nell'avvio del percorso lavorativo è una grande occasione che vive in italia ma purtroppo a macchia di leopardo molto bene in alcune regioni molto male in altre regioni tra cui la nostra nasce come un'opportunità perché è un investimento che l'unione europea fa sui nostri territori quindi sono stati investiti 190 milioni di euro dall'unione europea una bella fetta di denaro interviene anche la regione campania con altri investimenti su questo c'è preoccupazione perché prima di tutto riteniamo come come cgl che questo non sia un piano straordinario per l'occupazione è sicuramente un modo per riattivare colori cosiddetti nitte che dai 15 ai 29 anni in questo momento ne studiano il lavoro quindi diamo loro l'opportunità di riattivarsi anche nella ricerca e lavoro può diventare qualcosa di concreto e già siamo in ritardo da questo punto di vista se riusciamo a mettere insieme tutte le forze del territorio immagino quelle che sono i grandi assenti di questo programma già su carta ad esempio le università le scuole gli enti bilaterali e le imprese abbiamo fatto un ottimo lavoro di screening dell'offerta di lavoro cioè siamo riusciti a individuare la platea dei beneficiari ma manca pesantemente la domanda non sappiamo ancora oggi dove andare a collocare questi ragazzi quindi Grazie a tutti.